Ciao a tutti, mi chiamo Emma Forlani e sono qui per dirvi che da quando ho avuto la brillante idea di iscrivermi all'Accademia Face Place diretta da Pablo, la mia vita è cambiata. Sono rinata e finalmente sono felice perché ho trasportato la mia passione all'interno del mio lavoro. Finalmente ad oggi lavoro nell'ambiente del trucco, sono felicissima specialmente in questo periodo pieno di spose, settore nel quale mi sono specializzata. Sono felice perché ho avuto tantissime soddisfazioni, tantissime proposte lavorative nelle fiere, negli eventi, nelle sfilate, tutte esperienze che mi hanno arricchito e che mi danno la felicità nelle mie giornate. Pablo è tutto questo. Pablo, oltre ad essere un maestro, perché ovviamente lui trasmette tutto quello che sa, cerca di trasmetterlo nel modo più semplice, dimostrandolo, spiegandolo, ma soprattutto creando un feeling con ognuno di noi che passa per di là, unico, che fa sì che appunto tutto ciò che lui è possa essere trasmesso. Se volete essere felici in questo settore, ragazzi, passate per di lì, perché quell'accademia crea dipendenza. Io sono diversi mesi che non torno giù perché abito leggermente distante, ma non vedo l'ora di tornare, anche solo per due chiacchiere, un abbraccio e confrontarmi, logicamente, cercare di carpire sempre qualche nozione in più che in questo mestiere non è mai abbastanza. Quindi fate una scelta con la testa, ma anche con il cuore e scegliete Face Place Makeup Academy.